Sai che la Cecilia con il marito si dicono le parolacce? Testa di cazzo. Vabbè, buonanotte, va. Mi chiamo Arnaldo Nardi. Sono un uomo serio, un lavoratore e un padre di famiglia. Poi un giorno... E non provare a tornare a casa, eh! E ora dove vò? Se uno della sua età deve venire ad abitare qui, ci avrà i suoi problemi. Per me sì. Anche per me. Per me sì. E questa è la sostanza. Per le pulizie generali ci sono dei turni, sono scritti su questa lavagna qui. Se nemmeno sapessi dov'è, che cosa fa? Sono tre giorni che non lo vedo. E che quando ho saputo che c'aveva un amante non ci ho visto più. Arnaldo, un amante. Ma che tu mi dici? Tempo massimo di permanenza, otto minuti. A zero suona la sirena. Hai cinque secondi per uscire. Che paura. Sono abbastanza giovane? Giovane, diciamo giovanile. Papà. Ma questo qui chi è? È un amico mio, Arnaldo. Anzianotto però, eh. I mortacci su. Sto gran figlio della mignotta. Che schifo. Arnaldo! Chi è che c'ha il culo a frisbee? Ma siamo un paraculo! Voi non fate come me, eh? Non sarete mai più forti di così. Mai più belli e giovani di così. Lanciate. Se mettete sul 527 del digitale terrestre, ci dovrebbe essere un po' di disco music. Dopo di questa Marello. Esploderà un fantasma. Sì! Sai quando c'era ragazzi noi e si andava a mangiare e il conto era troppo salato e che si faceva? Che facevate? Che arriva ultimo. Paghi il conto. Va bene? Via! 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 La tua anima è il sipario ad un fantastico via vai. Quanto è? 198. 200 euro. Stiene pure il resto. Grazie. Oh, le mani addosso no, eh? Guarda questo, le mani addosso.